30 studenti italiani e stranieri si ritroveranno a Tortorella per scoprire le danze tradizionali. Il 25 ottobre nel borgo interno del Basso Cilento giungeranno giovani provenienti da Italia, Croazia, Turchia, Romania, Grecia e Spagna attraverso il programma Erasmus Plus. Fino al 3 novembre verranno impegnati in una serie di attività che coinvolgeranno anche i residenti. Tutti insieme dovranno imparare a conoscere la danza tradizionale di ogni paese. Uno scambio culturale pensato anche per ridurre pregiudizi e stimolare il coinvolgimento, l'inclusione e l'integrazione. Il nostro borgo, afferma il sindaco Nicola Tancredi, conferma una visione internazionale che punta sulle tradizioni e sui valori dei nostri abitanti al fine di far conoscere il nostro territorio. Continueremo a promuoverci, continua mettendoci alla prova come modello di accoglienza. Si tratta di uno scambio giovanile che bene si inserisce nelle azioni avviate a Tortorella con la scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale dell'Università di Salerno. I 30 studenti che da sabato saranno nel borgo del Salernitano rappresenteranno il ponte di connessione tra tutte le culture, compresa quella cilentana. Azioni che consentono ai piccoli paesi dove lo spopolamento è tangibile di fare il pieno di persone. Azioni sempre più frequenti sul territorio più a sud di Salerno e il caso delle masterclass che continuano a svolgersi a Morigerati a Laurino e Casaletto Spartano.